Hanno trovato una nuova casa gli occupanti del binario 68, il centro sociale di via Birago sgomberato ieri all'alba dagli agenti della questura in esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo firmato dalla procura di Lecce. Gli attivisti, circa una cinquantina, hanno occupato sin dalla scorsa notte i locali dell'ex sede di smistamento delle poste, sita a Castromediano, frazione di Cavallino in via Leuca. Si tratta di un immobile molto grande che occupa un intero isolato attualmente utilizzato dalle poste come deposito. Hanno forzato un lucchetto ad uno dei due cancelli d'ingresso e sono entrati. L'occupazione potrebbe comunque durare poco, poste società per azioni e quindi privata potrebbe far scattare subito un nuovo provvedimento di sgombero. La situazione è controllata dalle forze dell'ordine. 12 degli attivisti trovati ieri della polizia nel centro di via Birago durante le fasi di sgombero sono stati denunciati per occupazione abusiva di edificio. Per tutti si pone il problema di recuperare effetti personali, indumenti, mobili, complementi di arredo che in questi mesi avevano arredato il centro dove ora sono già scattate le misure di sicurezza da parte della proprietà che ha provveduto a murare la porta d'ingresso installando delle telecamere e predisponendo un servizio di vigilanza privata H24. Uno stabile che a sorprese del luglio scorso uno degli artisti mondiali più famosi della street art, Blu, aveva trasformato in un'opera d'arte a cielo aperto.